Il tuo regno viveva in pace quando è stato attaccato da mostri provenienti dallo spazio. Sprofondati negli abissi hanno rinchiuso il mondo e i suoi eroi in una prigione di cristallo tecnomagico. Ci serve il tuo aiuto per radunare una squadra invincibile di super guerrieri e riconquistare il pianeta cristallo dopo cristallo. Break the crystals, set them free. Battle Breakers! Battle Breakers! Battle Breakers! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti